Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con il meteo di TV6. L'anticiclone nordafricano prova a riconquistare l'Italia e tutto il Mediterraneo, ci riuscirà nei prossimi giorni per buona parte della settimana, regalando belle giornate, temperature sicuramente più elevate, però anche qualche nota instabile. Parliamo di temporali, tipici temporali estivi, durante il pomeriggio che coinvolgeranno per lo più le aree interne della penisola. Per quanto riguarda questo, martedì, una mattinata estiva pieno di sole, ma attenzione alla possibilità di qualche temporale nelle aree interne durante il pomeriggio, principalmente coinvolte saranno le aree montuose, l'Apenino, specie l'Aquilano. I fenomeni tuttavia saranno abbastanza isolati e di breve durata, altrove cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature come osservate in lieve aumento, massime fino a 30 gradi, negli aree interne a bassa quota, minime tra i 13 e i 20 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.